I sfisti dell'antica Grecia. I sofisti furono un gruppo di intellettuali che operarono nell'antica Grecia tra la fine del VI e la metà del V secolo anno corrente, principalmente ad Atene. Il termine sofista deriva dal greco antico sofist, che significa sapiente. I sofisti si facevano pagare per insegnare l'arte della retorica, della persuasione e dell'argomentazione. I sofisti furono figure controverse nel loro tempo. Furono accusati di relativismo, di scetticismo e di materialismo. Platone e Aristotele, in particolare, criticarono aspramente i sofisti, accusandoli di essere più interessati al successo personale che alla ricerca della verità. Il contesto storico. I sofisti apparvero in un periodo di grande fermento politico e culturale nell'antica Grecia. La democrazia ateniese si stava affermando e la società greca stava diventando sempre più complessa. I sofisti offrirono la loro formazione ai giovani, preparandoli a partecipare alla vita politica e sociale della città. L'insegnamento dei sofisti. I sofisti insegnavano una serie di discipline, tra cui retorica, l'arte di persuadere gli altri attraverso il discorso. Dialettica, l'arte di condurre un dibattito. Grammatica, lo studio della lingua. Logica, l'arte di ragionare. Diritto, lo studio delle leggi. Politica, lo studio della vita civile. I sofisti sostenevano che la virtù poteva essere insegnata e che la retorica era una potente arma per ottenere successo nella vita. I principali sofisti. I principali sofisti furono, Protagora 481-411 anno corrente, fu uno dei sofisti più famosi. Sosteneva che l'uomo è la misura di tutte le cose e che non esiste una verità assoluta. Gorgia 483-375 anno corrente, fu un altro sofista importante. Sosteneva che nulla esiste e che, se anche esistesse, non sarebbe conoscibile. Prodico di CEO 465-395 a punto C, fu un sofista specializzato nello studio del linguaggio. Sosteneva che il significato delle parole è determinato dal contesto in cui vengono utilizzate. Trasimaco 459-400 anno corrente, fu un sofista che sosteneva che la legge è un prodotto della forza e che il fine giustifica i mezzi. I piadielide 460-490 anno corrente, fu un sofista che era un esperto di una vasta gamma di discipline, tra cui la matematica, la medicina e la musica. L'influenza dei sofisti. I sofisti ebbero una profonda influenza sulla filosofia e sulla cultura greca. I loro insegnamenti contribuirono a diffondere l'idea che la verità è relativa e che la retorica è una potente, arma per ottenere successo nella vita. I sofisti furono anche criticati per aver contribuito a diffondere il relativismo e lo scetticismo. Tuttavia, i loro insegnamenti ebbero anche un aspetto positivo, in quanto contribuirono a promuovere il dibattito e la discussione filosofica. I sofisti sono ancora oggi oggetto di studio e di dibattito. La loro eredità è complessa e contraddittoria, ma è innegabile che abbiano avuto un ruolo fondamentale nella storia della filosofia e della cultura greca.